Bentornati, potremmo dire anche welcome back, tanto per così onorare Davide Moretti Davide Moretti alle Final Four di Basket di College, ma noi siamo qui adesso vedremo un'intervista che abbiamo realizzato in albergo con Maurizio Gardini che è passato dai nostri reparti appunto con il Fenerbahce che ha vinto a Milano Fenerbahce primo in Eurolega e se Milano dopo domani per chi ci vede in diretta oggi è martedì, poi magari le puntate le potete vedere anche durante il corso della settimana giovedì se Milano dovesse passare a Istamu con l'altra squadra, l'Efes tornerà Maurizio Gardini almeno una volta perché il primo turno dei playoff di Eurolega sarebbe in teoria con Milanesi e connessi, Fenerbahce Olimpia, Fenerbahce Armani ma questo è un altro discorso, fra poco, fra qualche secondo l'intervista tu che hai mai lavorato sotto l'ala di Gherardini? mai lavorato sotto la sua ala, insomma siamo stati diciamo avversari ovviamente io lo stimo tantissimo un po' per la carriera ma soprattutto per lo stile che ha sempre avuto, sempre un po' dietro le file, dietro le pinte tranquillo e ovviamente un conoscitore della Palacanestro, clamoroso insomma un signore della Palacanestro, ricordiamo insomma che ha portato Bagnani negli Stati Uniti insomma ha costruito carriere, sapendo insomma Forlì all'inizio, poi Treviso, i successi di Treviso poi il salto in America con Toronto dove è stato anche praticamente general manager il ritorno in Europa, il Fenerbahce d'accordo che ha un budget infinito però bisogna anche saperli usare i soldi non basta, non basta giustamente ok, allora ti devo togliere la parola, strano no? perché siamo pronti per partire con l'intervista con Maurizio Gherardini eccola qui Maurizio Gherardini, ci ritroviamo ogni tanto visto che ormai sei molto più estero che italiano tra il Canada e la Turchia ti abbiamo preso e ti abbiamo inchiodato su un divano così almeno facciamo un po' di chiacchiere sul basket globale di cui tu sei rappresentante intanto grazie mi permetti di iniziare dalla Turchia dall'esperienza ormai pluriennale che stai vivendo la prima domanda è una domanda forse un po' strana sei mesi fa sembrava che in Turchia dovesse crollare tutto un giorno ho aperto Sky TG24 la lira turca che crolla il dollaro che comanda gente che chiudeva i negozi gente disperata per strada e dicevano che lo sport avrebbe avuto un rebound di tutto questo e invece siete sempre lì grande squadra siete primi in Eurolega grande budget sei tu il mago? no no qui c'è magia poca c'è sicuramente la volontà di quelli che sono ancora i grossi club le grosse realtà di mantenersi competitivi in quelle discipline nelle quali possono esserlo quindi Fenerbahce è il club più importante del paese quando raccogli 30 milioni di tifosi ti senti così anche la pressione a livello dirigenziale di mantenere competitività in tutto quello che fai e nel nostro caso specifico direi i risultati di questi ultimi anni sicuramente hanno messo ulteriore pressione perché sono stati buoni risultati quindi il desiderio di rimanere al top nel senso con le migliori squadre europee si riflette poi in una politica di investimenti anche in momenti che non sono momenti semplicissimi però uno direbbe se la lira turca si è dimezzata sul dollaro tu hai dovuto raddoppiare il budget della squadra in teoria è stato così non esattamente così perché non sarebbe possibile diciamo che abbiamo cercato di gestire meglio le certe risorse che avevamo abbiamo cercato di rinegoziare qualche accordo abbiamo cercato di risparmiare dove era possibile risparmiare sempre con l'obiettivo di comunque restare competitivi di italiani che hanno successo all'estero ce ne tanti però di italiani che hanno successo all'estero con una materia che non è prettamente italiana la moda è italiana ovviamente ma la palacanestro no la palacanestro è americana quindi se tu ti trovi il ripitino che ha successo nel Palatinei Coast ha un senso un italiano invece che a livello proprio managerale poi parliamo anche del Canada ma adesso parliamo del Fenerbahce che ha successo da tanto tempo fuori dai nostri confini su una materia che non è italica non è facile hai qualche consiglio per qualcuno che volesse seguire le tue orme da Forlì a Istamul passando per Toronto ma sai e non dimenticarti Treviso è vero però Forlì sei inizi è stato un'apparente il trampolino è stato quello hai ragione ma sai i segreti non credo ce ne sono segreti credo che la base sia la passione perché quello che ci tiene un po' tutti tutti noi a vivere in maniera adrenalinica il basket è proprio la passione che abbiamo per questo sport però la passione la devi cercare di associare con le conoscenze le conoscenze in tutte quelle che sono le diverse aree della gestione di una società ecco non ci sono solamente le gestioni tecniche che magari sarebbe la parte non so più divertente perché vedere partite studiare i giocatori dare dei consigli discutere con un allenatore dico come Obradovi ci sono sempre momenti bellissimi però c'è sempre nello stesso momento il tentativo di imparare in tutte le altre aree che fanno parte di una società che sia il ticketing che sia il marketing che siano i media i social media sai io mi accorgo che in fondo il bello di questa professione è proprio la sensazione che tu hai di imparare qualcosa tutti i giorni adesso io non so l'ultimo intern che ci siamo così che abbiamo preso a Istanbul viene dalla Lituania ed è un esperto di e-sports e stiamo analizzando i pro e contro di un intervento nel e-sports e io che sono tecnologicamente diciamo limitatissimo mi accorgo che è un mondo affascinante però su questo se ce lo chiedevi senza nulla toglie da Lituano in Italia siamo molto avanti sugli sport siamo forse la seconda nazione del mondo e anche noi nel nostro team di produzione abbiamo gente avanti quindi se il Lituano per caso non si sente bene questo è bello questo è bello sapere ma è per dare l'idea che fare questa professione bisogna cercare di vedere tutto a proposito di Lituania parliamo adesso un attimo di nazionali tu general manager del Canada comunque in passato in passato però comunque è sempre un ruolo differente ok sei nel board come si dice no sono nel consiglio di eccellenza il consiglio di eccellenza e avete un girono difficilissimo il girono è peggiore perché una una grande squadra rimarrà fuori contando il Senegal che potrebbe essere la sorpresa perché in NBA in Europa di giocatori col passoporto senegalesi forti ce ne è tanti raccontaci un po' come vedi il Canada peraltro diciamo ai nostri amici che anche di canadesi che noi pensiamo siano americani in NBA ce ne è 13 in NBA in questo momento dovrebbero essere 13 e come si fa una squadra come la formate e soprattutto in un girone come questo come pensate di uscirne ma sei Australia Lituania voi e Senegal no? sì la speranza è naturalmente che rispondano all'appello tutti se tutti rispondono all'appello credo che abbiamo un pool di giocatori estremamente interessante perché non sono solamente diciamo il Wiggins di Minnesota il Jamal Murray di Denver il Tristan Thompson o Kelly Olenic o il playmaker dei Clippers di quest'anno Shane Alexander o Corey Joseph insomma è una lunga lista di giocatori e poi dall'Europa ci sono ottimi giocatori come Kevin Pangos come Melvin Ejim come Scrabs quindi sono tanti tanti buoni giocatori anzi ci sarà tu ne hai Ennis anche il tuo playmaker ma il mio viene da una stagione è un po' rotto però c'è un pool estremamente interessante e detto di questo pool di giocatori la speranza è quella di averli tutti se tutti rispondono all'appello credo che il Canada abbia la potenzialità di essere una delle sorprese del campionato anche se partiamo dallo svantaggio di un girone molto complicato molto complicato il Nazionale Italiano invece anche lì sperando che tutti rispondano all'appello quindi di avere innanzitutto Gallinari Bellinelli Gigi da Tome manca forse un lungo siamo un po' corti nel senso che un pivot di ruolo anche se ormai è passato di moda non c'è dal tuo punto di vista il nostro girone almeno inizio è un po' più facile perché Serbia e noi dovremmo essere le favorite come la vedi per noi? ma sai parlare parlare così lontani dall'evento è sempre difficile diciamo che sulla carta sono d'accordo sulla carta diciamo la prima fase sembra decisamente abbordabile per cui dopo gli interrogativi sono sulla sulla seconda fase lungo e importante è certamente Niccolò Melli però bisogna vedere chi può essere una buona la giusta spalla per un giocatore di questo tipo qui però sicuramente c'è necessità di centimetri anche perché sappiamo benissimo che un giocatore come Gallinari è lungo ma è eclettico e gioca dappertutto e non è esattamente chiamiamolo un lungo tradizionale quindi c'è sicuramente bisogno di di una presenza sotto canestro a dare una mano importante a questi giocatori senti non abbiamo ancora tantissimo tempo ti chiedo una cosa in queste ultime settimane l'Armani ha avuto io dico due settimane da NBA ha giocato quasi ogni due giorni in campionato si è trovata Venezia Cremona in Eurolega l'Olimpia Cossi il Pana Real Madrid voi poi l'Efes in Turchia il campionato non è così demanding per usare un termine inglese ci sono tre squadre poi tutto il resto mentre in Italia è un pochino più serrato questo può essere una considerazione da fare in generale per un calendario che vede due competizioni per Milano che chiedono tanto e Milano deve dare tanto da tutte e due le parti ma sai credo che sono scelte importanti che ogni club deve fare non sono d'accordo con te sull'analisi diciamo dei campionati perché noi che abbiamo forse il miglior record in Europa abbiamo perso con Banvit Galatasaray cioè con squadre turche perché le squadre turche fanno il possibile e l'impossibile per battere il Fenerbahce e il livello è sorprendentemente il livello è sorprendentemente competitivo quindi è difficile il campionato turco non è un campionato facile ma detto questo credo che ogni squadra che vuol stare a livello europeo deve strutturarsi in maniera tale da essere competitiva sia per l'Eurolega che per la Lega domestica e poi naturalmente ci sono da fare delle scelte nel nostro caso chiaramente se dobbiamo preferire qualcosa preferiamo l'Eurolega per chiudere finita l'esperienza che prima o poi terminerà in Turchia torneresti volentieri in NBA tipo quello che facevi a Toronto probabilmente hai avuto anche magari degli abbocchi e la vita ti piacerebbe ritornare dall'altra parte del laghetto no? sicuramente Toronto sono rimasto innamorato della città e tutto quello che è la vita in Canada però credo che finita l'esperienza in Turchia sia forse arrivata l'ora di tornare a Treviso e come si dice vuoi fare il vinicoltore? no, però si possono trovare altre forme di godimento della palacanestro che non devono essere necessariamente queste insomma molto bene era Maurizio Gherardini grazie Maurizio e ci inconteremo visto che ogni tanto torni alle tue origini